Si intitola Radioazioni, il progetto di Casa del Contemporaneo e PAV che parte oggi da Salerno e si svilupperà per tre anni dal 2022 al 2024 attraverso tre diverse fasi nel corso delle quali si indagherà sulla relazione tra teatro e ascolto nelle sue molteplici forme per ripensare il concetto di radiogramma. L'evento nato dall'idea di Radioazioni che nasce da una riflessione sull'impulso decisivo dato da Mario Martoni alla ricerca sulla relazione tra il linguaggio teatrale e quello radiofonico che vent'anni fa diede nuova linfa all'esplorazione delle potenzialità della radio come palcoscenico per il teatro. È stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa presso il teatro Ghirelli alla presenza tra gli altri del regista Fabrizio Arcuri che ne ha curato il riallestimento. Radioazioni fino al 2024 si muoverà a lungo tre direttrici principali ascolto esperenziale, formazione e produzione. Nella solitudine dei campi di cotone di Bernard Maria Coltes nella versione radiofonica firmata nel 1998 per Radio Rai 3 da Mario Martone con le voci inconfondibili di Carlo Cecchi e Claudio Amendola è l'opera scelta per l'appuntamento salernitano riallestita da Fabrizio Arcuri nella fornace del teatro Ghirelli di Salerno che ha realizzato un'installazione sonora e abitabile in forma di labirinto per due spettatori alla volta. Radioazioni tutto ma in particolare il progetto che curo nella solitudine dei campi di cotone di Bernard Maria Coltes nasce proprio dalla volontà di costruire un dispositivo che in qualche modo tenga conto un po' di quello che stiamo vivendo, di quello che abbiamo appena vissuto e dunque di conseguenza anche delle limitazioni che abbiamo vissuto ma dall'altra parte è un progetto che tenta di ripensare anche l'approccio dello spettatore allo spettacolo dal vivo in una dimensione che è più esperienziale per cui si tratta di un percorso sonoro che lo spettatore vive attraversando gli spazi della fornace che vedete qui accanto e diciamo grazie appunto a questo testo incredibile e formidabile che Mario Martone fece per la radio, per Radio Rai 3 nel 1998 con Claudia Mendola e Carlo Cecchi si ha la possibilità di riflettere non solo sulla solitudine ma soprattutto sul principio più profondo del desiderio e quindi questo è poi anche un po' un invito a utilizzare questo tempo che abbiamo sentito nostro e che in qualche maniera ci ha messo a contatto a confronto con noi stessi per cercare proprio la natura profonda del nostro desiderio e dunque tentare di perseguirlo insomma Come si sviluppa questa tappa qui a Salerno? Allora qui di fatto tutto il progetto Radiazioni parte con questa installazione che inizierà oggi 9 aprile e continuerà fino all'8 maggio e prevederà poi tutta un'altra serie di tappe invece di dislocate negli altri spazi della Casa del Contemporaneo con altri progetti di teatro dell'ascolto e con la realizzazione di una vera e propria radio che si occuperà solo ed esclusivamente di teatro e quindi avrà diciamo così non solo dei podcast radiofonici che sono appunto delle drammaturge contemporanee nuove scritte apposta per l'occasione ma anche di magazine di appuntamenti che affrontano criticamente il teatro e che riflettono sul teatro Grazie a tutti